Per noi il punto nascita è strategico e fondamentale perché le donne del Valdano devono avere un luogo che le possa seguire dall'inizio alla fine del loro percorso di natalità e poi possa dare anche prospettive future. Per cui come sindaci del Valdano, come conferenza dei sindaci lo abbiamo posto proprio al direttore sanitario come primo punto. Assolutamente quindi il punto nascita non chiude oggi, non chiuderà nel 24 ma non chiuderà neppure nei prossimi anni. E' Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni e presidente della conferenza dei sindaci del Valdano a mettere un punto fermo sul punto nascita dell'ospedale Santa Maria alla Gruccia. In base ai dati diffusi dall'azienda sanitaria nel 2023 le nascite sono state al di sotto delle 500. 472 bambini venuti al mondo in Valdano contro i 493 nel 2022. A tutt'oggi inoltre è in deroga, da luglio manca un primario. Chiaramente è necessario attenzionare il punto nascita dell'ospedale della Gruccia, questo che stiamo facendo ormai da diversi mesi, coinvolgendo la direzione dell'ospedale ma soprattutto la direzione sanitaria dell'Asla. Abbiamo incontrato il nuovo direttore sanitario, la dottoressa De Luca, il 7 di dicembre per avere consapevolezza di a che punto sono le procedure del concorso per il primario. Perché è chiaro che avere un primario stabile, presente e poi possa organizzare tutta la ginecologia ostetricia sarebbe l'elemento ed è l'elemento fondamentale per rilanciare anche il nostro punto nascita. La fase appunto di reperimento delle domande si è conclusa, il concorso si svolgerà tra gennaio ed i primi di febbraio. Quindi noi continueremo come conferenza dei sindaci a monitorare attentamente questa situazione perché è necessario che il punto nascita abbia un primario prima possibile.